Scusi, ma se... scusi, guardi Basentini, scusi, no, però scusi Basentini, questo signore gli ho pagato anch'io il biglietto aereo, ho pagato con i miei soldi di contribuente a Zagaria il biglietto, come tutti gli italiani che ci stanno seguendo, per andare a Brescia. Poteva prendere quindi un aereo dei duco per finire in carcere a Roma oppure a Viterbo. Ma che scherziamo? Ma ci prendiamo in giro? Ma no, io ho perso amici contro la mafia, ho perso gente che ha lottato e ha dato sangue e meritano rispetto in questo paese. Dottore, merita rispetto innanzitutto alla legge, se mi permette, c'è un ordinamento... Ci sono due magistrati che dicono bugie, dicono quindi bugie questi di Sassari, due magistrati mentono, perfetto, lo dice lei perché dice che non ha... qui c'è scritto che non avete mai risposto, questo è il punto scandaloso di questa storia, i suoi non hanno risposto, non sarà lei in prima persona, ma chi doveva rispondere dei suoi non ha risposto. E siccome io rispondo dei miei collaboratori, le sto chiedendo se hanno mentito qualcuno al DAP o qualcuno che sta nei tribunali della sorveglianza di Sassari. È una domanda che ha una sola risposta, o sì o no.